Questo invito che io rivolgo ancora una volta a tutte le scuole, non solo di Palermo, della provincia, della regione siciliana, ma a tutte le scuole d'Italia, perché per volere della direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale della Sicilia, la dottorezza Alto Monte, quest'anno il concorso è esteso a tutto il territorio nazionale. Quindi una partecipazione massiccia da parte delle scuole a partecipare alla quattordicesima edizione. Quest'anno il concorso ormai è diventato veramente maturo perché si rivolge a tutte le scuole, di ogni ordine e grado. Di fatti ci saranno poi quattro premi, verranno premiate quattro scuole, scuole dell'infanzia, della scuola elementare, la scuola media, gli istituti superiori, proprio per cercare di coinvolgere tutte le scuole d'Italia su un argomento importante che è l'articolo 21 della Costituzione, la libertà di stampa. È importante, ecco, perché oggi noi abbiamo un interesse particolare a tutelare la libertà di stampa, perché tutti hanno il diritto di poter esprimere le proprie idee nel rispetto soprattutto delle forme, nel cercare mai di invadere campi altrui, ma la libertà di stampa è un bene importante da parte di ogni cittadino. La libertà di stampa è sinonimo di democrazia, ma soprattutto come iscriversi al concorso e soprattutto che tipo di elaborati presentare. E allora, abbiamo lasciato libere tutte le scuole di poter esprimere al meglio, quindi potranno fare un componimento artistico, potranno fare un DVD, potranno fare anche un elaborato pittorico grafico. Le scuole sono libere, ecco, consentono a tutte le scuole di parlare di Costituzione, quindi dell'articolo 21 quest'anno e l'articolo interessato, parleranno dell'inno nazionale, del tricolore, che sono i tre valori fondanti del nostro Paese. Come iscriversi? È sufficiente mandare poi tutti gli elaborati alle scuole, con una lettera di accompagnamento, invieranno questi elaborati all'ufficio scolastico regionale, in via Fattori 60, lì poi ci sarà una commissione che valuterà. I elaborati dovranno pervenire all'ufficio scolastico regionale, servizio ispettivo centrale, entro il 20 di aprile.